l'arrotolata compie 25 anni e la festeggiamo con un art contest un concorso libero facile e divertente come partecipare è molto semplice solo devi essere super creativo e fotografare cantare disegnare o registrare un video mostrandoci come vedi la nostra prima e condividerla con noi solo conta la creatività tutto sarà valido l'importante è partecipare ci saranno brevi per ogni categoria oltre una bella festa per tutti alla fine del concorso osa puntati prea divertiamoci insieme con la rotolata che ne dici ci provi